Nessun contratto rinnovato per i 29 dipendenti del lato ambiente CL1, che si occupano del servizio di nettezza urbana nei comuni nisseni di Serra di Falco, Santa Caterina, Mussomeli, Acquaviva, Sutera e Campofranco, da questa mattina in sit-in dinanzi gli uffici. Il personale che non riceve lo stipendio da 5 mesi rischia di creare un'emergenza igienico-sanitaria ai comuni interessati, poiché in questo momento non vengono espletati da tutti i 137 dipendenti impiegati. Per quanto mi riguarda io sono dell'idea che la presenza di queste unità è a dir poco necessaria, quindi mi appello agli altri colleghi, anche perché paradossalmente non ritengo si possano porre in essere diversi pesi e diverse misure. Difficile sarebbe cercare di capire come mai in alcuni comuni si opta per il rinnovo e in altri si va a optare per il non rinnovo. Delle due, una, o abbiamo sbagliato prima o stiamo sbagliando adesso. Io per quanto mi riguarda credo che il comune di Santa Caterina abbia assolutamente bisogno di queste professionalità. Oggi il servizio di raccolta viene espletato da tre operatori. Un comune di 6 miliabitanti non può pensare di poter garantire la pulizia e il decollo urbano nella rimozione dei rifiuti solidi urbani soltanto con tre operatori. I sindacati Wiltrasp e Fit Cisle hanno chiesto un incontro in prefettura per far sì che i 29 dipendenti possono riprendere a lavorare. Intanto i lavoratori affermano che continueranno la loro protesta fino a quando non riceveranno delle risposte dalla prefettura che si presume arriveranno nelle prossime ore. La delusione è palese. Guardando i volti dei dipendenti si nota subito amarezza. Comunque sia noi lotteremo, porteremo avanti questa avvertenza. Abbiamo già chiesto un incontro in prefettura, attendiamo questo incontro insieme ai sindaci per capire cosa è realmente successo all'interno di quell'assemblea, quali sono le motivazioni e per cercare di convincere questi sindaci a rinnovare questi contratti perché è fondamentale rendere i servizi all'interno dei comuni perché un servizio deve essere sia efficiente che efficace che economico. Noi rivendichiamo esclusivamente che rientrino tutti i 29 lavoratori perché oggi sul territorio sono indispensabili, come diceva il mio collega Andrea Morreale, il sindaco di Santa Caterina, lo ripeto anche io, perché onestamente è dato tanti anni che sono qua in servizio, automaticamente buttare la gente così dopo quando non serve più non ritengo che sia giusto e neanche opportuno. Siamo 29 operai, tutti questi 29 senza contratto, senza una scappatoia per poter lavorare, non abbiamo risorse ovviamente, in più oltre ai soldi che devono ancora darci e siamo nelle condizioni disastrose.